Complimenti! Ora che hai prestato giuramento anche tu sei un cittadino italiano e in quanto italiano godi anche dei diritti di cittadinanza europea. Puoi circolare liberamente per l'Europa e decidere di trasferirti in uno qualsiasi dei 28 Paesi membri. Puoi studiare e far valere il tuo titolo di studio, cercare lavoro ed essere tutelato come un cittadino europeo. Hai diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria. Non dimenticare che puoi votare e candidarti per le elezioni europee del 2014. Cittadini italiani, cittadini d'Europa. Grazie a tutti.